E se ti dicessi che dal magnesio dipende la nostra stessa vita, ci crederesti? Oggi scopriremo insieme quanto sia fondamentale questo minerale per il nostro benessere. Parleremo dell'importanza del magnesio, un tema che, a mio parere, viene ancora troppo spesso sottovalutato. Devi sapere che la carenza di magnesio è molto più comune di quanto si possa immaginare. Secondo le stime, circa il 60% della popolazione ne è carente. E questo rappresenta un dato allarmante. Ciò che rende la situazione ancora più critica è il fatto che, spesso, non ci accorgiamo di questa mancanza. Una carenza di magnesio, infatti, non è sempre facile da riconoscere. E i suoi effetti possono manifestarsi in modo silenzioso ma significativo. Devi sapere che, diversamente da nutrienti come il ferro o la vitamina B12, il magnesio non può essere facilmente monitorato con un semplice esame del sangue. Sai perché? Perché soltanto l'1% del magnesio presente nel nostro organismo si trova nel sangue, mentre la maggior parte è immagazzinata all'interno delle cellule di ossa, denti e muscoli. Questo significa che un valore apparentemente normale nel sangue non garantisce che i nostri livelli complessivi di magnesio siano sufficienti. Al contrario, se il livello nel sangue fosse basso, significherebbe che le nostre riserve, i cosiddetti magazzini di magnesio, sono ormai quasi del tutto esaurite, una condizione che potrebbe rivelarsi molto grave. Tuttavia, anche senza raggiungere situazioni così estreme, una carenza di magnesio, anche lieve, può comunque avere un impatto significativo sulla nostra salute. Ma come possiamo capire se siamo carenti? Ci sono segnali specifici che il nostro corpo ci invia, e li esploreremo tra poco. Prima, però, è importante ricordare che il nostro corpo perde magnesio quotidianamente, principalmente attraverso urine e feci. Questo rende essenziale garantirne un apporto costante per mantenere il giusto equilibrio. Il magnesio è un minerale fondamentale che il nostro corpo deve ricevere quotidianamente tramite l'alimentazione. Tuttavia, negli ultimi cento anni, i terreni agricoli hanno subito un impoverimento significativo, perdendo una grande quantità del magnesio che un tempo contenevano. Di conseguenza, anche chi segue una dieta bilanciata potrebbe non assumere la quantità adeguata di questo prezioso nutriente. Per comprendere meglio la gravità della situazione, basta pensare che all'inizio del Novecento una dieta comune, basata su alimenti freschi e non processati, garantiva un apporto medio di circa 500 mg di magnesio al giorno. Oggi, invece, con gli stessi cibi, si arriva a malapena a 150 mg. Questo è molto al di sotto del fabbisogno giornaliero raccomandato, che si attesta tra i 300 e i 400 mg. Questa carenza non è un semplice dato teorico, ma un problema reale che influisce su molte funzioni vitali. Il magnesio è coinvolto in più di 300 reazioni biochimiche essenziali. Quando i suoi livelli sono insufficienti, tali processi vengono compromessi, con effetti negativi su ogni sistema del nostro organismo. Ad esempio, il magnesio è indispensabile per il benessere cognitivo, ovvero per il funzionamento ottimale del cervello. Svolge un ruolo cruciale nel metabolismo, regolando la sensibilità all'insulina e favorendo l'equilibrio energetico. È anche essenziale per la salute cardiovascolare, influenzando sia la funzione del cuore che la dilatazione dei vasi sanguigni. Infine, il magnesio incide sul nostro stato emotivo, contribuisce a ridurre lo stress, a calmare l'ansia e a combattere la depressione. In breve, il magnesio è il pilastro di un corpo sano e di una mente serena. Non solo. Il magnesio è essenziale anche per il sistema immunitario. Il magnesio, infatti, aiuta i globuli bianchi a muoversi più velocemente, permettendo loro di raggiungere rapidamente le aree di attacco, riducendo così il rischio di infezioni e infiammazioni. Una carenza prolungata di magnesio può aumentare l'infiammazione cronica e compromettere la salute delle ossa. Questo minerale è infatti indispensabile per mantenere ossa e denti forti. Bassi livelli di magnesio, nel tempo, possono contribuire al rischio di osteoporosi, mentre una carenza acuta può portare a un aumento significativo dell'infiammazione nel corpo. Il magnesio, inoltre, è coinvolto nella produzione di energia cellulare e nella sintesi di molecole come il glutazione, uno degli antiossidanti più potenti del nostro corpo. Se i tuoi livelli di magnesio sono bassi, potresti avvertire una stanchezza costante, difficoltà di concentrazione o una maggiore predisposizione allo stress. Ora che conosciamo il ruolo fondamentale del magnesio, è il momento di osservare i segnali che il nostro corpo potrebbe inviarci per indicarci una possibile carenza. La carenza di magnesio può manifestarsi attraverso segnali che, a prima vista, potrebbero sembrare scollegati tra loro. Uno dei segnali più comuni è la presenza di crampi muscolari. Il magnesio è infatti coinvolto nel meccanismo di rilassamento muscolare e una sua carenza può causare spasmi o contrazioni involontarie. Ad esempio, potresti aver notato episodi come la palpebra che tremola, un fenomeno noto come mioclonia palpebrale. Oppure potresti soffrire di bruxismo, cioè stringere o digrignare i denti durante il sonno, svegliandoti al mattino con i muscoli della mascella rigidi e doloranti. Un altro segnale importante è la difficoltà nel recupero muscolare dopo l'attività fisica. Se il tuo corpo impiega troppo tempo a riprendersi da uno sforzo, potrebbe essere un indizio di una carenza di magnesio. Anche il sonno disturbato, come l'insonnia o il risveglio frequente durante la notte, non va trascurato. Il magnesio è fondamentale per la sintesi di GABA, un neurotrasmettitore che favorisce il rilassamento e aiuta a migliorare la qualità del riposo. Un sintomo altrettanto significativo è la stanchezza cronica. Se ti senti costantemente privo di energia, potrebbe essere dovuto a un'insufficienza di magnesio, essenziale per la produzione di ATP, la valuta energetica delle nostre cellule. Anche la resistenza all'insulina, spesso collegata a problemi metabolici, potrebbe essere influenzata da una carenza di magnesio. Questo minerale, infatti, agisce direttamente sui recettori dell'insulina, facilitando il corretto ingresso del glucosio nelle cellule. Se soffri di ipertensione arteriosa, è importante sapere che il magnesio contribuisce al rilassamento delle pareti dei vasi sanguigni. Una carenza può impedire questo processo, causando un aumento della pressione. Inoltre, se stai assumendo farmaci diuretici, spesso prescritti per controllare l'ipertensione, questi possono ridurre ulteriormente i tuoi livelli di magnesio. Anche la sindrome premestruale è strettamente legata a questo minerale. Durante il ciclo mestruale, in particolare nel periodo che va dall'ovulazione alle mestruazioni, il fabbisogno di magnesio aumenta. Una sua carenza può peggiorare i sintomi premestruali, come dolori, gonfiore e sbalzi d'umore. Infine, cefalee ed emicranie ricorrenti potrebbero essere legate a un deficit di magnesio. Sebbene il magnesio non sia sempre la causa diretta, integrare questo minerale potrebbe aiutare a migliorare la situazione. Questi segnali, da soli, non bastano per diagnosticare una carenza di magnesio, ma sono indicatori che meritano attenzione. Se ti riconosci in alcune di queste situazioni, il consiglio è di parlarne con il tuo medico o farmacista per valutare insieme un'eventuale integrazione. Un altro aspetto cruciale da considerare è il ruolo del magnesio nella gestione dello stress. Quando attraversiamo un periodo particolarmente difficile, il nostro corpo produce maggiori quantità di cortisolo, l'ormone dello stress. Questo, a sua volta, aumenta l'escrezione renale di magnesio creando un circolo vizioso. Più siamo stressati, più magnesio perdiamo e meno magnesio abbiamo, più è difficile gestire lo stress. Ma il magnesio non influisce solo sulla nostra capacità di rilassarci. È anche essenziale per il sistema cardiovascolare. I muscoli delle pareti arteriose necessitano di magnesio per contrarsi e rilassarsi in modo regolare. Se manca, la pressione arteriosa può salire. Per questo motivo, chi soffre di ipertensione dovrebbe considerare di integrare il magnesio sempre sotto controllo medico. Anche il nostro sistema gastrointestinale è coinvolto. Se soffri di malassorbimento intestinale, gastrite cronica, reflusso o altre condizioni come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa, potresti non assorbire abbastanza magnesio dai cibi. E se stai assumendo farmaci come inibitori di pompa protonica, questi potrebbero ridurre ulteriormente l'assorbimento del magnesio. E cosa dire delle ossa? Non tutti sanno che il magnesio è fondamentale quanto il calcio per la salute ossea. Una carenza prolungata può compromettere la densità minerale delle ossa, aumentando il rischio di osteoporosi o peggiorando una condizione di osteopenia. Un altro elemento importante da tenere in considerazione è l'alimentazione. Se nella tua dieta mancano alimenti ricchi di magnesio come verdure a foglia verde, legumi, frutta secca e semi oleosi, potresti non raggiungere il fabbisogno giornaliero raccomandato. Allo stesso modo, il consumo eccessivo di caffè, tè, alcol o bevande zuccherate e gassate può aumentare l'eliminazione di magnesio attraverso le urine, aggravando la carenza. Anche chi vive in ambienti molto inquinati o è esposto a metalli pesanti, ad esempio per amalgame dentali o altre fonti ambientali, può avere difficoltà a mantenere livelli adeguati di magnesio. I metalli pesanti, infatti, interferiscono con l'assorbimento di questo minerale, creando ulteriori squilibri. Tutti questi fattori ci portano a una domanda. Come possiamo fare per garantire al nostro corpo il magnesio di cui ha bisogno? È qui che entra in gioco l'integrazione. Se hai difficoltà a raggiungere il fabbisogno giornaliero di magnesio solo attraverso l'alimentazione, potrebbe essere utile considerare un'integrazione. Ma è importante scegliere il giusto tipo di integratore, perché non tutti i magnesi sono uguali. Il magnesio non si presenta mai da solo. È sempre legato a un'altra molecola, formando sali organici o inorganici. I sali inorganici, come il magnesio ossido, sono tra i più comuni, ma hanno una biodisponibilità molto bassa. Il magnesio ossido può essere utile in caso di stipsi, perché ha un effetto lassativo, ma non è indicato per integrare magnesio a livello sistemico. Se invece desideri un'assimilazione più efficace, è meglio optare per forme di magnesio organico, come il citrato, il bisglicinato, il pidolato o il treonato. Il magnesio citrato è una delle forme più versatili, favorisce il benessere generale ed è utile anche per la salute delle ossa. Tuttavia, se hai un intestino particolarmente delicato, potrebbe non essere la scelta ideale, poiché in dosi elevate può causare feci più liquide. Il magnesio bisglicinato, invece, è legato alla glicina, un aminoacido che favorisce il rilassamento. Questa forma di magnesio è particolarmente indicata per gestire lo stress, migliorare la qualità del sonno e alleviare le contratture muscolari. Se il tuo obiettivo è migliorare la funzione cognitiva o supportare il sistema nervoso centrale, il magnesio treonato o il pidolato sono le scelte migliori. Questi riescono a superare la barriera ematoencefalica e ad agire direttamente sul cervello, migliorando memoria e concentrazione. Un consiglio importante è scegliere un integratore che contenga una sola forma di magnesio, piuttosto che un mix. In questo modo, è più facile ottenere un effetto mirato e specifico. per quanto riguarda la durata dell'integrazione, dipende dalle tue necessità. Se hai una carenza significativa, potrebbe essere necessario integrare per uno o tre mesi per riportare i livelli a valori ottimali. In situazioni meno critiche, puoi utilizzare il magnesio in modo più saltuario, ad esempio, due o tre volte a settimana, o nei periodi di maggiore bisogno, come durante l'ovulazione, in caso di stress intenso o nei cambi di stagione. Ricorda però che il magnesio ha una bassissima tossicità. Anche se ne assumi un po' più del necessario, il tuo corpo lo eliminerà naturalmente attraverso le urine e le feci. Integrare il magnesio può davvero fare la differenza per il tuo benessere, soprattutto in situazioni di stress, stanchezza o carichi fisici ed emotivi intensi. Tuttavia, è importante osservare attentamente il tuo stile di vita e la tua alimentazione per capire se stai assumendo abbastanza magnesio ogni giorno. Se pensi di averne bisogno, consulta sempre il tuo medico o farmacista di fiducia, soprattutto se stai assumendo farmaci o hai condizioni particolari. Ricorda che ogni persona è unica e il fabbisogno di magnesio può variare in base al momento della vita che stai attraversando. Gravidanza, allattamento, periodi di forte stress o convalescenza sono tutti fattori che possono influire. Come abbiamo visto, il magnesio è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro corpo. È il minerale che ci aiuta a gestire meglio lo stress, a dormire profondamente, a mantenere ossa forti e a proteggere il cuore. È un alleato prezioso, spesso sottovalutato, ma che merita tutta la nostra attenzione. Se questo video ti è stato utile, condividilo con le persone a cui tieni. Un semplice gesto come questo potrebbe fare la differenza per qualcuno che non è ancora consapevole dell'importanza del magnesio. E se vuoi supportare il mio lavoro, lascia un mi piace e raccontami nei commenti se hai mai integrato il magnesio o se hai notato dei miglioramenti grazie a esso. Grazie per avermi seguito in questo viaggio alla scoperta del magnesio. Un abbraccio di salute e ci vediamo nel prossimo video.